Ehi, come stai? Ma hai visto il brutto tempo che c'è fuori? Stasera è proprio una classica serata autunnale e visto che sei qui con me, con me, ho deciso che se ti va potremmo passarla insieme facendoci un po' di coccole, stando entrambi un po' comodi, fare in modo che questa serata sia estremamente rilassante. Che ne dici? Che ne dici? Intanto non so se lo senti ma in sottofondo possiamo sentire un po' il camino che scricchiola, il camino che ho di là dell'altra stanza. Secondo me è l'immagine perfetta di queste serate. L'odore troppo, infatti. E innanzitutto ti devo chiedere se ti va di indossare una coperta. Una coperta che ti devo andare a prendere per quello te lo chiedo ma secondo me questa casa è abbastanza riscaldata per adesso. Non credi? Sì, sì, secondo me anche. E una cosa però che posso darti non saranno magari esteticamente bellissimi ma ho qui un paio di calzettoni che ti posso giurare. Posso giurare riscaldano tantissimo. poi sì, come ho detto, magari esteticamente non sono i più belli del mondo ma mi piacerebbe darteli. Te li appoggio qua. se vuoi indossarli sentiti pure libero, libera di farlo. Ma io direi che volevo fare un attimo spazio qua davanti. perché mi sarebbe piaciuto fare una cosa ovvero io ho qui una candela. Lo sa che io adoro le candele e quindi ho pensato che potevamo accenderla per sentirne un po' il suono. E in realtà non per forza la dobbiamo lasciare poi accesa, possiamo anche spegnerla. io però intanto direi... Ecco questo. Così. Questa è la candela accesa. Concentriamoci un attimo sul suono. Queste sono anche i candeli profumate. Perciò quando sono accese distribuiscono un po' per la stanza, per l'ambiente, il loro profumo. Eccomi qua. Questa ha un lavoro buonissimo. Allora, potremmosia... lasciarla qui accesa. Facendoci sentire sempre un po' quello scricchio lì ho. E secondo me può essere un'idea. Tu che dici? Oppure possiamo spegnerla? Ma per il momento... non lo so perché forse è meglio spegnerla. Perché abbiamo già il caminetto in sottofondo. Magari questa può disturbare. perciò prendo il tappo. Perciò prendo il tappo e faccio così. in modo da... in modo da... non diffondere il fumo. Perché può dar fastidio. E allora una cosa che vorrei fare stasera è prenderci un po' cura di noi stessi. e in particolare magari posso io prendermi cura del tuo viso e tu del mio se ti va. e ho preso che ho trovato queste specie di due pinzette con cui volevo un attimino tenerti i capelli un po' più indietro per poter poi lavorare bene sul tuo viso. Perciò ne volevo mettere una... aspetta... su questo lato... e una... su quest'altro. Perfetto. E perché l'ho fatto? Perché prima di tutto volevo coccolarti un po' il viso. Un po' con il pennello. quindi... passando te l'ho sul viso un po' invece con... un paio di dischetti che ho preso. Quindi... chiudi gli occhi mi raccomando. rilassati... 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 Giudici... Questo te lo passor sa lìio qui! Su gli occhi, su gli occhi. Prima uno e poi l'altro. Su gli occhi, su gli occhi. Faccio poi il contorno, il contorno del viso. Ma adesso voglio, scusami, che sono un pochino, un pochino raffreddato in realtà. Spero di non attaccarti nulla. Nel caso, scusa, ho, come ho detto, due dischetti e vorrei un attimino massaggiarti il viso con questi, facendo così tanti piccoli movimenti circolari. Tanti piccoli movimenti circolari. Tanti piccoli movimenti circolari. Perfetto. Di questo tipo, ecco. Quindi, tu continui a tenere gli occhi chiusi. Continuo a tenere gli occhi chiusi. Io te li passo sulla fronte. Sulla fronte. sul l'occhi chiusi. Prima una, e poi l'altra. Sul mento. Sul naso. Ok. Ok Adesso ho qui Ok Una maschera viso in gel in questo caso E ho anche questo pennello Non so dirti in realtà se è adatto adatto per spalmare questo tipo di maschere Ma io avevo questo Ci dobbiamo un po' aranciare Poco per volta Mi piacerebbe spalmare là sotto tutto il viso Allora è un pochino fresca Ma secondo me non gelida gelida Però se è troppo fredda scusami Magari lavorandolo un po' dicevo Si riscalda un po' il prodotto Gli occhi Gli occhi E aspettiamo E aspettiamo Aspettiamo Allora per chiederti Se Hai bisogno Di acqua Perché Perché ti ho portato questo contenitore Però dimmi tu Magari 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 Non la vuoi La vuoi più tardi Dimmi tu Oppure Se vuoi del tè Io tanto ho qui l'acqua Come Come puoi vedere qui accanto a me Perciò È a portata di mano Ecco Non mi disturbi a chiederla Oppure Se vuoi Stesso in questa tazza Posso farti Un po' di tè Su questo Ho questo tipo di tè Che è alla camomilla principalmente Spero ti piaccia Perché in realtà Non ho altri tipi Tra cui farti scegliere Dovrei prenderne un po' di più Lo so Ok dai E un'ultima Ultima 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 cosa Che volevo fare È Con questa Cremamani Che volevo Tartene un po' innanzitutto Perciò Vieni pure Ok Ok Sia Puri Io ti dico Le prendo Un po' Perfumo Un po' Perfumo Dai Oh La schiena Dopo un po' Stare così Mi fa un po' male Ma Non importa Allora Adesso vorrei Approfittarne Per quest'ultimo Momento insieme Per Dirti Tante volte Buonanotte 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 Per darti Un grande grande bacio Iniziare a farti un po' di carezze Un po' di coccole Per Quando appunto Tra un po' Dovremmo Andare a letto Io spero che questa Serata insieme Ti sia piaciuta Che Abbiamo Un po' Come dire Che in questo modo Siamo riusciti un po' Ad affrontare Questa Serata Autunnale Particolarmente Fredda E Ad essere anche riusciti A rilassarci Insieme Va bene? Quindi Buonanotte 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 Buonanotte